Oggi è venerdì 24 gennaio 2020, siamo a località Iconi su Montesugna di Rovereto guardate due bellissimi camoci di vedetta, qua ce ne vede solamente la testa altri due o tre panoramiche viste dai Cogni alla Montesugna, i Cogni alla Montesugna e sullo sfondo le piccole Dolomiti, la Valla Garina, bassa Valla Garina verso il Veronese, queste immagini siamo alla fine del video, Montesugna di Rovereto, Trentino